Ebbene sì signori, ho un problema con NBA 2K e in particolare con NBA 2K24 Signori miei benvenuti in questo nuovo video o ben ritrovati, non lo so, benvenuti se vi ha acchiappato dall'home page questo video vi può interessare Vi do il benvenuto nel canale, lasciate un mi piace, iscrivetevi perché no se non l'avete ancora fatto Ma soprattutto date un ascolto a quello che voglio dirvi e lasciate un commento che vorrei sapere la vostra e anche magari creare un po' una discussione nei commenti perché no Il fatto oltretutto che io stia facendo questo video con la felpa di NBA 2K che mi hanno regalato loro quando mi hanno invitato al community event di New York quest'estate Uno fa ridere, due però attenzione è fatto apposta perché adesso ve lo spiego Io era diciamo da un paio d'anni anche forse di più che non facevo un video di questo genere in cui mi lamentavo di un qualcosa che non andava O lo facevo magari ad agosto, per chi mi segue da un po' si ricorderà quello che vorrei da NBA 2K e il numero dell'anno dopo In cui bene o male mi lamentavo di quello che era stato nel gioco prima sperando che venisse non tanto ascoltato ma migliorato nel gioco dopo Perché avevo smesso di farli? Perché sinceramente avevo perso le speranze, cioè proprio ve lo dico in maniera totale e sincera Ma quest'anno poteva essere l'anno della svolta perché dobbiamo dirci la verità io parlo su next gen Attenzione io parlo delle console di nuova generazione, io quelle di vecchia di considerazione Generazione non le considero più, capisco che non tutti abbiano le possibilità di Ok ma se hai ancora una PS4 non puoi lamentarti che il gioco per PS4 sia lo stesso di quello di 4 anni fa E il normale andamento delle console, io parlo di console di nuova generazione Quest'anno poteva essere l'anno della svolta secondo me perché Dobbiamo dircelo, il gameplay soprattutto offline ma anche online secondo me ha subito un netto Netto miglioramento rispetto all'anno scorso e rispetto agli anni prima E proprio per questo eccomi qui a fare questo video perché se io perdo le speranze Bah non ho neanche tutto questo interesse a fare un video in cui mi lamento perché più di tanto sono parole a vuoto Lo sono anche adesso perché nessuno cambierà niente perché io ho detto qualcosa Ma proprio perché ho delle aspettative, ho delle speranze, il gameplay è molto promettente quest'anno Mi dispiace che a metà novembre alcune modalità danno il sentore di metà aprile E non di metà novembre O se non morte comunque in una fase calante che a metà novembre non dovrebbe esistere Considerando che il gioco è uscito da due mesi Ma attenzione metto le mani avanti dal punto di vista commerciale del discorso Perché? Perché so bene che chi fa questi giochi e in particolare Take Two che fa NBA 2K Ha interesse nel guadagnare dal proprio gioco E giustamente chiede, pretende di poter guadagnare da chi gioca il suo gioco Non solo pagando ma anche pagando i pacchi, pagando le build, pagando le cose Perché è un cazzo di business, quindi si vuole fare soldi Poi, che magari a una certa sarebbe da mettere una linea oltre la quale non vogliamo più andare Nel chiedere soldi al giocatore, forse sarebbe il caso Però dal loro punto di vista lo capisco E lo capisco ancora di più negli anni scorsi Quando il prodotto è... E quindi magari provo a spingere il tutto possibile dall'altra parte Ma quando il prodotto è molto vaido come questo gioco Perché il gameplay offline di questo NBA 2K24 Io non me ne ricordo uno così divertente e bello da vedere Anche nel gameplay CPU-CPU Cosa che uso spesso personalmente Magari voi che state guardando questo video no Ma sappiate che è molto migliorato E questo fa vedere il lavoro che c'è stato sulla CPU rispetto all'anno scorso E secondo me anche online il gameplay è un po' più fluido Meno bug, secondo me anche un po' meno script Per quanto online c'è poco da fare, c'è sempre E soprattutto, ripeto, tra parentesi Soprattutto offline, ma anche online Sembra quest'anno che se provi a giocare a basket E metti in pratica tattiche cestistiche vere nel videogioco Hai un vantaggio competitivo rispetto a chi non lo fa Che voi mi direte dovrebbe essere normale Forse sì, forse no Ma gli anni scorsi sicuramente non era così E quindi proprio per questo upgrade Che c'è stato abbastanza innegabile Sulla qualità del gameplay Mi trovo qui a fare questo video E qual è il mio problema che ho scritto nel titolo E vi ho detto all'inizio del video E... Uno Il fatto di questa sensazione di essere ad aprile per le modalità Quando sia novembre Con delle modalità che quasi non incentivano a farti giocare In un gioco che ha un gameplay così Buono Così ben fatto Le modalità non ti incentivano a giocare Ma l'unica cosa che ti incentivano a fare E spendere i tuoi soldi Io Ok Li apro i pacchi Ti compro quel giocatore Mi compro la magliettina figa Mi faccio la seconda build E mi compro i VC per migliorarla Sì Ok Però Non può essere la tua unica cosa che mi spingi a fare Spendere i miei soldi Io Parco Non lo gioco tanto So che lì con le ultime patch C'è stato qualche problemino di gameplay Che io che gioco offline E il My Team Non ho risentito Quindi Mi astengo leggermente da parlare del parco Però Mi soffermo sul My Team Che comunque è una modalità che a me piace molto Ci perdo molto tempo Soprattutto in stream Se vi interessa il link in descrizione O Per tre settimane Non c'è stato Niente da fare Dalla Ultima di ottobre Alla prima di novembre Non c'è stato Nulla che valesse la pena Di essere fatto Sul My Team Se no Giocare per gli affari miei Fare MT Prendere qualche carta Vincere Perdere Sì va bene Quello che puoi fare sempre Per l'amor di dio Dal primo de settembre Al primo de O agosto Dell'anno in cui vive NBA 2K Cioè Mi sembra una cosa Insensata Potevi solo Spendere i 250 euro E comprare quello Comprare quell'altro Comprare quell'altro ancora Che Mi sembra un po' Sminuente Mi sembra un po' Avvilente Mi sembra un po' Veramente triste Rispetto al gameplay Che c'è quest'anno E attenzione Sono tutte cose Che si possono assolutamente Sistemare Per l'amor del cielo Perché quando il gameplay Funziona Poi le season I rewards Le patch Le cose Sono la cosa Tutto sommato Che si può aggiustare Più facilmente Quindi è un problema Molto meno grave A quando il gameplay Era solo Faccio l'animazione Buggata Tiro dritto Vado a schiacciare Oppure C'era il glitch Per fare i vc Oppure c'era il glitch Per farti vincere Le partite da my team Senza giocarle Oppure c'erano quelli Con i controller moddati Che facevano sempre verde Tutte cose Già successe Negli anni Chi comprava gli mt Sui siti E avanti Però Mannaggia A quella Ma come è possibile Che l'unico sprono Che mi dai È quello Di comprare Le cose Con i soldi veri Sul tuo gioco Che io ho già pagato 80 euro E ripeto Economicamente Lo capisco Perché loro vogliono Farci più soldi possibili Ma diobono Vicino a quello Non dico di toglierlo Perché su fifa Tutti i giochi Sono così Per l'amor del cielo Non mi piace Ma sono così Ma diobono Mettimi vicino Anche un qualcosa Che posso fare Grindando Per gli affari miei Per dire La cosa della my career Offline Del goat È È una cosa carina Che dà quel senso Di Grindo 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 Senza spendere Anche un soldo Volendo O se voglio Complicchio qualcosa E mi potenzo il giocatore Vado 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 Fino che arrivo In alto Nella tabella del goat Ci sta Un po' di più Ecco Un po' di più Di queste cose qui Ma la mia paura Pensando a questa cosa qui È che Io magari cambio modalità Vado a giocare offline Ma c'è anche a chi Offline gli fa cagare Giocare Non gli interessa fare i rebini Non gli interessa simulare Lui vuole giocare online Contro altre persone E magari Se si trova Davanti al fatto Di dover spendere 150 euro Ogni mese Per rimanere competitivo Non lo fa E ci mancherebbe altro E questo non capisco Come possono pretendere Che chi gioca costantemente al gioco Sia costretto Non dico costretto Ma Forzatamente invitato A spendere dei soldi Che non tutti hanno Che non tutti vogliono spendere Anche se ce li hanno Perché Anch'io potrei permettermi Di comprare tutti i cazzo Di giocatori Da 150 dollari Che escono Potrei permettermi Non è che Non posso Ma non lo faccio Vaffanculo Cioè Non li faccio Vado Mi compro Un Lego Di Star Wars Piuttosto Mi compro Una Doca notte Dell'NBA Cioè Dopo Ognuno fa dei soldi Quello che vuole Per l'amor del cielo Capisco Voglio fare più soldi possibili Ma non sono sicuro Che anche guardando Dal loro punto di vista Dicendo Voglio fare più soldi possibili Su questo videogame Voglio Strizzare i portafogli Di chi gioca Il più possibile Non sono convinto Che questo sia il modo giusto Anche volendo Avendo come obiettivo quello lì Perché Quelli che giocano competitivo O che comunque giocano 24 ore su 24 Al my team O 24 ore su 24 Al parco Fanno una build al mese Due Tre build al mese Le fanno comunque Che siano content creator Che siano pro player Che siano semplicemente Malati Di NBA 2K O Non lo so Insomma Per l'amor di Dio Quello che è Le fanno comunque Queste cose Spendono comunque I soldi nei pacchi Spendono comunque Nelle build I vestiti I giocatori Le cose Non è la vera fascia Da coltivare Dove puoi andare A trarre guadagno E quelli che spendono Una volta ogni tanto Perché quelli che non Spenderanno mai Se fai queste robe Ancora meno voglia Gli viene di spendere E anzi Vanno via E quelli che spendono Come posso essere anch'io 20 euro al mese Una volta 50 Io ci faccio un pack opening Me li rifaccio Ma magari La nonna mi da 50 euro A Natale Li metto su 2K Mi faccio il pack opening Per fare la cosa Al mio compleanno La stessa cosa Faccio un esempio Di come potreste essere voi Se voi non lo fate Non è un problema Anzi meglio Secondo me Ma è un ragionamento Che ci sta Quelli che comprano il gioco E poi ci mettono vicino Qualcosina In 2-3 occasioni Secondo me Così li disincentivi Non è che Li fai venire Ancora più voglia Poi oh ragazzi Se voi lo vedete In maniera diversa Ripeto Siete liberissimo Di dirmelo nei commenti Ma anche guardando Dal loro punto di vista Ripeto Non so Non sono convinto Che questa sia La tattica giusta Ecco Per non parlare Che magari A noi Di farci spennare Ovviamente Non ci interessa Guardando Dal punto di vista Dei giocatori Ma ci interessa Avere un gameplay Che quello c'è E un qualcosa Da fare Che ci interessi E quello A lunghi tratti Non c'è stato Ma fermi tutti Perché la season 1 Del my team Secondo me È una delle dimostrazioni Migliori Di come si possono fare In maniera Egregiamente Le cose Con un gameplay Sempre quello Molto solido E tantissimi Quasi troppi Contenuti Sia per chi voleva Spendere 150 euro Ogni due settimane Sia per chi voleva Spendere 20 Ogni due settimane 20 al mese Sia per chi voleva Spendere 0 Al mese Magari ti puoi essere Accorto che hai Quasi troppo favorito Chi spendeva 0 Rispetto a chi spendeva 300 Ok Fammi un va bene Un po' meno Un po' meno robe Per chi 0 E un po' più robe Per chi 150 Al mese Ma no 5 Per 0 Per i 0 euro Al mese E 95 Per chi spende i soldi Cioè Non è fattibile E così Mi sembra che Questo nella carriera Non abbia impattato In questa maniera Tra season 1 E season 2 Lì forse ci sono Altri problemi Con la difficoltà A tirare Le difficoltà Proprio Del gameplay Online Che rende Davvero Complicato Segnare In maniera Costante Ma Questo è un altro Discorso Qui poi Subentrano le patch Non è quello Il punto del mio Del mio video Anche perché Non vorrei che Questo NBA 2K24 Passasse per un pessimo gioco Solo per il ricordo Di queste cose qui Che sono Certo un problema Ma poi Nascondesse il fatto Che 2K24 È uno forse Dei migliori gameplay Che 2K ha avuto Sempre tenendo aperta La parentesi Che se voi giocate 10 ore a settimana Al Pro-Am 5 Contro 5 E mi dite Che su 2K18 Si giocava 30.000 volte meglio Io non mi metto Neanche a far barufa Con voi Perché per l'amor di Dio Ma il gameplay Offline E online Quanto meno delle modalità Meno competitive Mi sembra veramente Ma non dico anni luce Ma comunque Veramente anni avanti Rispetto agli anni scorsi Questa era la mia Mi dovevo liberare Di questo Di questo peso Perché certe robe Vanno dette Perché Ok Che io collaboro Con NBA 2K Ok Che mi hanno invitato All'evento Ok Che non sto Sparando merda Su nessuno Però Cioè Quando le robe Sono così Palesi E potrebbero essere fatte Molto semplicemente E le erano già State fatte Tra l'altro Erano già state fatte In maniera molto migliore Cioè Un cambio così drastico Mi lascia veramente Basito Basito E oh Se continuerai ad essere così Io mi diverto sempre Con le modalità offline Con i build Con le simulazioni Che piacciono anche a voi Tutto sommato Da quello che vedo Dai numeri dei video E delle stream Quindi Ce ne faremo una ragione Per l'amor di Dio Ma non tutti Come me Si divertono Nelle modalità offline Di più Che in quelle online Cioè Ci sta Ognuno ha i propri gusti E non vedo Perché si debba far scappare Così tante persone Dal gioco Per un'idea Di far soldi Che sì È giusta Sì Ci sta Ma non so neanche Come dicevo prima Se questo è il modo giusto Per farla Poi oh Se mi dicono Che 2k24 È il record Per microtransazioni Nella storia di NBA2K Io alzo le mani Avranno ragione loro E starò pure zitto Per l'amor del cielo Io la vedo in maniera diversa Ecco Questo è quanto E questo era il video Che volevo farvi Non ho niente altro Da aggiungere Se non siete d'accordo Fatemelo sapere nei commenti Ripeto Fatemi sapere la vostra Ciao boys E incrociamo le dite Per il proseguo Di questo 2k24 E speriamo Che si prosegua Soprattutto su questa strada Per NBA2K25 Perché dopo tanti anni Di obono Ho di nuovo speranza Per la mia serie Videoludica preferita Sportiva Ovviamente Perché in generale Se no quella è Della Stovas O al massimo God of War Ma questo Un altro discorso Non c'entra Alla prossima Grazie per aver ascoltato Le mie cose Fino alla fine Grazie a tutti